Ti sto offrendo la possibilità di diventare un agente Kingsman. Tipo una spia? Più o meno. Dal 1849 i Sarti Kingsman hanno vestito gli individui più potenti del mondo. Nel 1919 molti avevano il desiderio di preservare la pace e proteggere vite. I nostri fondatori concentrarono ricchezza e influenze per uno scopo migliore. E così ebbe inizio un'agenzia di intelligence indipendente che opera a un altissimo livello di riservatezza. L'agenzia Kingsman. Benvenuto nel club. Davvero notevole. Questo film risale alle origini. Va alle fondamenta della saga Kingsman. I modi definiscono... ...l'uomo. Spettacolare! Questo vince 7 a 0. In questo film scopriamo come nasce la Kingsman. Va all'ascensore. Lo stile è tipico di Matthew Vaughn. Matthew è un narratore strepitoso e ha scritto una sceneggiatura di grande forza. Al centro di questo film c'è la prima guerra mondiale. Ma l'impronta Kingsman è davvero inconfondibile. E le buone maniere? C'è la sartoria e scene di lotta molto complicate. Appieno di gadget, ironia, azione e fantastici antagonisti. È l'ora di gettare benzina... ...sul fuoco. Armati e pronti. Vedremo. Benvenuto. Perché voi uomini la fate tanto complicata? Ti servirà un abito. Andiamo?